Bene, potremmo cominciare così. Io volevo come prima cosa rivolgere un graziamento a tutti quelli che hanno accorto l'invito a unirsi della celebrazione civile e religiosa, della giornata, della memoria, della sua arte e della riformazione. Una serivoglia che quest'anno avviene in un modo molto diverso rispetto a quello degli anni passati, ma non per questo in modo meno intenso che partecipare. Ringrazio innanzitutto il signor di Alpio Lorenzo Ruffini, che con la sua presenza istituzionale rappresenta la volontà di partecipazione di tutta la nostra città. Ringrazio il rappresentante della comunità ebraica di Genova, Francesco Orsi, che ormai è un amico per noi, e il Vescovo di Ati e l'Unico Testore, che celebreranno la comune preghiera ebraica e cristiana, che concluderà questo nostro incontro. Ringrazio fino ai tecnici che con la loro competenza e il loro generoso lavoro rendono possibile la partecipazione a questa iniziativa anche a Istana. Ricordate che senza conoscenza e responsabilità questo potrebbe accadere di nuovo. Queste sono le parole con cui la senatrice Viviana Segre ha concluso un suo intervento sulla giornata della memoria della Soai e della deportazione. Un commento pubblicato in questi giorni su molti quotidiani. A mio parere, quelle di Viviana Segre che ho appena letto sono parole terribili. Già, ci pare impossibile che la Soai e la deportazione siano potute succedere e che siano potute succedere in paesi di grande tradizione culturale, nella fabbrica di Dante, in quella di Gioete e di Bacca, e che siano potute succedere in paesi di lunga e affermata tradizione cristiana. Il monito della senatrice Segre a mio talero l'ha comunque preso molto sul serio. Per certi aspetti comunque mi comporta il fatto che fin dal 2001 il comitato formato da associazioni e da cittadini e aquesi, che si è occupato di promuovere insieme alle amministrazioni comunali la celebrazione della giornata della memoria a forza con la conoscenza e la responsabilità come i valori fondamentali che dovevano anno dopo anno guidare la sua proposta ai conciliadini. Per questo, in questi vent'anni, si è puntato sempre, fin dall'inizio, sull'educazione e su quel luogo istituzionale di educazione che è la scuola. In essa si sono promossi, anche in questo anno scolastico difficile, straordinariamente difficile, corsi di aggiornamento per insegnanti, organizzati con determinazione da un gruppo di insegnanti guidati dal professor Vittorio Europeo. Il nome e ordine è grado di scuola a quesi, sulla didattica della sua A e sulla didattica della deportazione. E accanto a questi si sono proposte decine e decine di iniziative, mostre, rappresentazioni teatrali, concerti, conferenze, presentazioni di libri, rivolte direttamente agli studenti. E la necessità di promuovere la conoscenza della sua A contro ogni risorgente negazionismo si è tradotta in questi anni, e così sarà anche quest'anno, in una enorme serie di proposte culturali, rivolte a tutti i cittadini a questi. Conforta anche il fatto che oggi conosciamo meglio le persone, le belle persone, che componevano la comunità ebraica di Acqui, i cui nomi li sentiremo leggere tra poco, e che la curia nazifascista ha nientato. E questo, grazie alle ricerche d'archivio nel cimitero degli ebrei nella nostra città, promosse in questi anni da un gruppo di intellettuali cittadini, ricordo tra gli altri la preside Luisa Raffetti e alcuni signanti a Chiesi, in amante dell'Elmo e Giulio Sarri, ma non sono certamente i soldi. Da queste ricerche, molte delle quali sono state pubblicate con solicitudine da Stimana e Ancora, emerge tra l'altro quale grande perdita sul piano culturale, economico, amministrativo e sociale, rappresentò per la nostra città la scomparsa della comunità ebraica, una scomparsa dovuta in gran parte alla sua. Ma accanto al dovere della conoscenza resta un complico ancora oggi decisivo, quello della responsabilità. E a mio parere, questo complico si deve rivolgere oggi in due direzioni che mi permetto di richiamare di tutti qui. La prima, anzitutto si deve rivolgere contro l'antisemitismo che spesso, mascherandosi da antisionismo, ha rialzato la testa in Italia e in Europa e non solo sui social. Anche qui mi è conforto il fatto che la Chiesa, a cui appartengo, grazie soprattutto al Concilio Vaticano II e al documento conciliare nostra etate, oggi ha cambiato radicalmente il suo atteggiamento dei confronti degli ebrei. E se in occasione della sua, ha sostanzialmente valvettato, oggi collabora apertamente con gli ebrei e li chiamano fratelli maggiori. Mi piace ricordare qui che qualche giorno fa, esattamente l'opera, il 18 gennaio, la Diocesi di Acqui ha promosso, nell'ambito della giornata dello sviluppo del dialogo con gli ebrei, un incontro di riflessione e di preghiera aperto a tutti su un libro biblico del Correle, incontro guidato dal rabbino capo della comunità ebraica di Genova, il dottor Giuseppe Mondiano, e con la partecipazione e il contributo del nostro resto. Credo che sia un piccolo segno, ma credo anche che non sia primo di importanza. All'impegno contro l'antisemitismo, a mio parere, si deve accompagnare quello contro l'indifferenza. Fu l'indifferenza, infatti, che rese possibile l'acquazione dei piani criminali della Shoah, che incominciarono ben prima della Shoah, ma fin dall'approvazione delle leggi razziali, contro le quali, purtroppo, si levò solo qualche timida voce. Riguardo l'indifferenza, purtroppo non ho trovato in questi giorni molte ragioni di conforto. Infatti, nell'anno appena trascorso, sono morti in mare, nel mare mediterraneo, più di mille persone, e tra essi tanti, tanti bambini. E ancora in questi giorni, una folla di disperati, lungo i confini orientali dell'Europa, si sforza di sopravvivere al freddo, alla fama, alle malattie, e, in un caso e nell'altro, di fronte alla sostanziale indifferenza di moltissimi e a tutti i livelli. C'è quindi un ampio canto aperto al nostro impiego, in cui coltivare la nostra responsabilità. E se non potremo fare altro, potremo almeno personalmente sforzarci per abbandonare, sempre e comunque, l'indifferenza che ha portaggiato qualche volta anche voi. Grazie. Roberto Ancona, nato ad Acqui il 19 gennaio 1906 e qui residente in via Saracco 2. Era direttore dell'Albergo Nuovo Eterno, arrestato a Terzo, e deportato al 2 agosto del 1944 e morto a Dacau il 10 febbraio del 1945 a 39 anni. Aldo Bacchi, nato ad Acqui il 21 ottobre del 1912 e qui residente in piazza Orto San Pietro 1. Faceva parrucchire. Era sposato con una figlia albina. Arrestato a Desime, deportato il 5 aprile del 1944 e morto a Mauthausen il 15 febbraio del 1945 a 32 anni. Arturo Bacchi, nato ad Acqui il 14 aprile del 1910 e qui residente in piazza Orto San Pietro 1. Collaborava all'attività del padre, tappezzire. Ad Acqui è stato arrestato insieme al fratello Adito, deportato il 30 gennaio del 1944 e stato ucciso all'arrivo ad Aschwitz il 7 febbraio del 1944 a 33 anni. Adito Bacchi, nato ad Acqui il 26 settembre del 1920 e qui residente in piazza Orto San Pietro 1. faceva il cameriere. E' stato arrestato ad Acqui, deportato il 30 gennaio del 1944 e ucciso ad Acqui nell'ottobre del 1944. Aveva 24 anni. Michele Bacchi, nato ad Acqui il 12 luglio del 1867. Il papà di Aldo, Arturo, è avuto. Faceva il tappezziere, arrestato nell'ospedale di Acqui dove era ricoverato, è stato deportato il 30 gennaio del 1944 con il figlio Adito e Arturo e ucciso all'arrivo ad Aschwitz il 7 febbraio del 1944 a 76 anni. Elisa del Benedetti, nata a Torino il 17 gennaio del 1965 ed abitanta ad Acqui in salita Buono 7. era vedova, arrestata ad Acqui ed è portata il 30 gennaio del 1944 e stata uccisa dall'arrivo ad Aschwitz il 7 febbraio del 1944 a 79 anni. Ernesto del Benedetti era una maestra nata ad Acqui il 7 aprile del 1856 e qui residente in corso di corsa in maniera indica arrestata ad Acqui ed è portata il 30 gennaio del 1944 e stata uccisa dall'arrivo ad Aschwitz il 7 febbraio del 1944 a 87 anni. Giacomo del Benedetti nata ad Acqui il 19 luglio del 1900 arrestato a Torino ed è portato il 30 gennaio del 1944 è morto a 44 anni in luogo ignoto il 30 gennaio del 1945 Dino Davide Stine nata ad Acqui il 20 marzo del 1911 era dottore commercialista e abitava in Diego arrivando il nome arrestato a Torino ed è portato il 5 aprile del 1944 è morto a Bucherwald il 28 febbraio del 1945 a 33 anni Smeralda Dina prozia di Dino Davide nata ad Acqui il 26 luglio 1855 dove abitava in via Carducci 5 è stata arrestata ad Acqui deportata al 30 gennaio 1944 e uccisa all'arrivo ad Auschwitz il 6 febbraio 1944 a 88 anni Salomon Salomon Mosè David Dina nato a Casale l'11 aprile 1872 cameriere arrestato ad Acqui ed è portato il 30 gennaio 1944 è stato ucciso all'arrivo ad Auschwitz il 6 febbraio 1944 a 71 anni Marietta Marietta Levi nata a Casale il 23 luglio 1876 arrestata con marito Salomon Mosè Diner ad Acqui ed è portata ad Auschwitz il 30 gennaio 1944 è stata uccisa all'arrivo al campo il 6 febbraio 1944 a 67 anni Anita Poa nata a Venezia il 24 giugno 1886 arrestata a Visone deportata il 6 dicembre 1943 è stata uccisa 5 giorni dopo all'arrivo ad Auschwitz a 47 anni Olga Poa nata a Natqui il 4 maggio 1889 è cugina dei fratelli Batti è stata arrestata a Torino ed è portata il 26 giugno 1944 quando aveva 45 anni rimango da solo su il luogo e la data della sua morte Enrichetta Geron nata a Casale il 9 agosto del 1863 vedova abitava con la fila Dorina in Acqui in via Monteverde 6 arrestata ad Acqui ed è portata il 30 gennaio del 1944 è morta durante il trasporto a 80 anni Dorino Toleni nata ad Acqui il 23 settembre del 1886 qui è stata arrestata insieme alla mamma Enrichetta ed è portata il 30 gennaio del 1944 quando aveva 57 anni è morta in luoghi d'acqua sconosciuti Aronne Nino Levi nata ad Acqui alla Cascina Montagnola il 25 dicembre del 1872 è stato arrestato a Genova dove gestiva un negozio di scoppa deportato ad Auschwitz il 6 dicembre del 1943 è stato ucciso 5 giorni dopo l'arrivo al campo stava per compiere 71 anni Emma Cavallone nata a Genova il 23 dicembre del 1884 qui è stata arrestata insieme al Maretto Aronne Nino Levi ed è portata il 6 dicembre del 1943 quando aveva 58 anni è morta in luogo e data sconosciuta Anita Levi nata dal 28 novembre 1887 arrestata ad Asti è portata il 30 gennaio del 1944 quando aveva 56 anni e deceduti in luogo e data sconosciuti Emma Levi era la sorella maggiore di Anita nata ad Acqui il 15 ottobre del 1878 arrestata a Torino deportata il 5 aprile del 1944 è stata uccisa la rea di Lager il 10 aprile del 1944 a 65 anni Cesare Israele Levi nata ad Acqui il 3 di luglio 1872 è stato arrestato a Torino riportato il 5 aprile del 1944 e ucciso d'Avris 5 giorni dopo l'arrivo a 70 anni Ada Ottolendi nata ad Acqui il 19 novembre 1881 è stata arrestata a Montecatino Terme deportata il 9 novembre 1943 e uccisa all'arrivo a Raffitz il 14 novembre 1943 pochi giorni prima di come delle 62 anni Emma Ottolendi nata ad Acqui l'1 dicembre 1866 è stata arrestata a San Reino deportata il 6 dicembre 1943 e uccisa all'arrivo a Raffitz 5 giorni dopo a 77 anni Giacomo Ottolendi nata ad Acqui l'unica 5 aprile 1897 ma arrestata a Torino insieme al fratello Giorgio e deportata il 30 gennaio 1944 rimangono sconosciuti data e l'uovo di una morte Giorgio Ottolendi fratello minore di Giacomo nato ad Acqui il 4 ottobre 1909 è stato arrestato a Torino deportato il 30 gennaio 1944 quando aveva parato 6 anni morto in data e l'uovo sconosciuto Silvio Salomon Ottolendi nato ad Acqui il 5 maggio 1889 e nipote di Samson presidente della comunità israelitica della città arrestato a Novi Ligure ed è portato è stato ucciso all'arrivo ad Auschwitz il 6 agosto 1944 a 55 anni e da Tesau nata ad Acqui il 10 aprile 1895 dove faceva la pendicciaia in piazza volente 5 è stata arrestata ad Acqui ed è portata il 30 gennaio 1944 quando aveva 48 anni è morta in luogo e data ignota Elvira Vesler nata fuori d'Italia il 9 ottobre 1876 ma arrestata ad Acqui ed è portata il 30 gennaio 1944 è stata uccisa all'arrivo al campo il 7 ebbraio 1944 all'età di 67 anni oltre ai deportati ebrei fuono deportati da Acqui e morevano ai campi di concentramento Bonavito classe 1921 morto a Natalda Cavallero Paolo classe 1913 morto a Dakar Comba Francesco classe 1927 morto a Nekingu Migliorino Filippo classe 1906 morto a Norimbergo Pareto Domenico classe 1903 morto a Natalda Serventi Mario classe 1903 morto a Natalda Buongiorno a tutti e tutti e grazie mille a tutti coloro che con noi qui partecipano a questa edizione diciamo purtroppo ridotta di questo giorno della memoria ringrazio in particolare Sua Cendente Saldesco il Comandante della Funtagnia dei Carabinieri ringrazio l'onorevole Fornaro che non può essere qui per le nostre vicende che si stanno verificando Roma ringrazio i sindaci del territorio che ho l'orgoglio di rappresentare poiché è un territorio che nella storia ha espresso numerosi giusti tra le nazioni per questo motivo il nostro comune ha voluto e io ho voluto con entusiasmo dedicare uno spazio che è prospicente di fianco al cimitero degli orei dando un nome che veramente peggio di così non si potrebbe perché slargo è veramente pessimo però la toponomastica ci costringe a dare quel nome lì però lo slargo dei giusti ce lo faremo andare bene perché è un giusto tributo persone che hanno avuto il grande coraggio mi domando se io avrei avuto quel coraggio cioè rischiare la propria vita per gli altri in un momento in cui il terrore dominava quindi a parte le prime fasi sicuramente c'è stato un momento dove essere giusto è stato estremamente difficile in particolare ringrazio Giulio Sardi per i tanti colloqui di questi giorni per portare a questo evento oggi un grande contributo per un progettà che è stato un mio predecessore che improvvisamente ha deciso di svestire la casacca la casacca nera e diventare un giusto di cominciare a fare qualcosa per gli ebrei che abbiamo sentito elencare per quelli che non abbiamo sentito elencare e quelli che sono riusciti a salvarsi questo elenco rappresenta un'enorme quantità di dolore un dolore infinito per tantissime persone decine decine di persone è un dolore di una comunità che oggi non ha non ha tra di noi una comunità ebraca e questo ci porta a fare una riflessione e per me è un momento molto stimolante perché dal passare a pensare al passato alla storia del passato comincia a fare delle riflessioni perché se oggi come ho citato in piazza sanguido ci ritroviamo con un consiglio comunale che vota i provvedimenti amministrativi con un braccio teso probabilmente qualcosa è alcatto e probabilmente ha fatto una riflessione per ciò che possiamo fare noi per il futuro e io credo che sia proprio quello l'obiettivo come si diceva prima abbiamo due grandi responsabilità la memoria e poi il non silenzio quindi il dialogo perché credo che la medicina migliore sia il dialogo tra le parti per questo motivo in particolare per il fatto che non avendo una comunità vive in vento che tra di noi abbiamo un cimitero ebraico che dobbiamo ringraziare immensamente il comitato acquese che ha mantenuto che ha in qualche modo mantenuto vivo e che con grandissima energia e fatica ha portato fin qui oggi così com'è e questa serie di manifestazioni questa locandina questa locandina che in fondo porta nel rosso le parole di Levi che con quattro parole Levi dice esprime una potenza enorme sulla responsabilità del ricordo perché abbiamo tutti noi quindi voglio ringraziare il comitato al quale chiedo comunemente io ho un gap culturale che in qualche modo voglio anche colmare perché io non vengo da un mondo legato alla cultura però sento una storia che è particolarmente interessante infregante complicata difficile è una storia che però mi interessa io non ho tempo di leggere in questi giorni con citati non anni e mezzo non riesco a leggere nemmeno la mia carta identità però ho intenzione quando questo mio servizio per la città da ultimo cittadino sarà finito di dedicarmi a un approfondimento di questa storia che è così importante e interessante ho avuto la settimana scorsa un incontro con la strutturice Paola Fargiò e mea Polacco e ho portato con me mia moglie mia moglie che è strano un po' tutte le dicevi non porto mai a casa il lavoro comunale se non le espressioni del silenzio potremmo ne so più parlare però ha portato a casa una dose di interesse anche lei è stata coinvolta in modo enorme dall'energia che queste persone sulla scorta di una storia di decenni di sofferenza inaudita inevitabilmente portano a loro quindi lei è rimasta scossa da questo e abbiamo parlato tutto il tempo di questa cosa nel nostro viaggio di ritorno ma è stato molto importante vedere quanto lei è rimasta coinvolta scusate se mi sono un po' dilungato e se ho magari dimenticato di salutare qualcuno in particolare vorrei salutare ripeto il sommato dei giorattetti con loro in questi giorni avremo modo di fare un incontro per parlare del futuro perché è quello che in questo momento maggiormente mi interessa grazie grazie a tutti tanto ringrazio a tutti per questa presenza che in un certo modo ci incoraggia ad andare avanti tra i documenti che sono stati resi disponibili in questi ultimi anni documenti di archivi centrali e di archivi periferici documenti di archivi di stato ce n'è uno una lettera della fine di dicembre 43 che Arturo Bacchi insieme al cartello Arito rivolge all'allora capo della provincia come allora si chiamavano i prefetti e anzi c'è proprio scritto ai carabinieri di Acqui chiede lui imprigionato alle carceri del castello paleologo il 7 dicembre precedente chiede di poter tornare a casa propria e motiva in una tutplice direzione questa richiesta dice io sono stato arrestato in quanto appartenente alla razza ebraica vi chiedo di poter tornare a casa mia per sostenere la mia famiglia con il mio lavoro il documento è altamente dichiarativo nella sua essenzialità da un lato della focalizzazione sulla sostanza e sull'avvio proprio sul momento incoattivo della prosecuzione delle vite sia con la prigionia e sia poi con la motivazione della stessa cioè la pattenenza alla razza ebraica e noi sappiamo che non è mai stata presente in un fondamento scientifico in un fondamento giuridico di millenario e nessun apporto appunto culturale che non fosse il razzismo che non fosse l'antisemitismo per un altro punto sia Arturo che Avito sostengono di voler tornare a casa per l'aiuto da stare alla propria famiglia e questo insieme alla comparazione di altri documenti che li riguardano ha reso ben noto il carattere e la personalità il profilo dei due prigionieri tutte e due bravi cittadini tutte e due non hanno mai infranto in nessun modo bene minimo la legge tutte e due grandi lavoratori tutte e due dediti agli affetti familiari e alla famiglia e tutte e due osseguendo il regime quindi la lettera dichiara che non c'era assolutamente motivo con fondamenti validi per poter produrre quello che poi avvenne Arturo e Arnito sono stati incarcerati il 7 dicembre come abbiamo sentito e come altri ebrei della città altri otto ebrei della città che in quella data non erano riusciti a rendersi irreperibili sono poi stati deportati e uccisi all'arrivo ad Auschwitz il 6 febbraio successivo questo documento insieme a tutti gli altri documenti reperiti dal fondo questura dal fondo prefettura e da altri fondi degli archivi di stato ha permesso lo scorso anno la ricostruzione scientifica creata con il metodo storico documentata comparata di questa storia che fino a qualche anno fa non era possibile conoscere e questa storia è stata poi resa pubblica sui quaderni di storia uno dei quali è a disposizione di vertenta civica che sono stati distribuiti alle scuole e quindi è da questo momento ufficialmente disponibile per chiunque voglia conoscere così come deve essere una ricostruzione storica che ne abbia tutti i requisiti i documenti storici peraltro sono riusciti a da una parte confermare e dall'altra a rafforzare se possibile tutte le testimonianze che abbiamo acquisito a partire privatamente dagli anni 80-90 ma poi a livello scolastico tra il 2001 e il 2003 quando gli uomini sono venuti a scuola hanno scritto memorie che hanno consegnato hanno addirittura da nonni parlato ai loro di pochi allora studenti i quali hanno riferito ai compagni a scuola e attraverso queste testimonianze che allora ci avevano permesso di ricostruire una storia sociale della comunità giocata più sui profili dei singoli e sui rapporti che questi uomini cittadini acquesi avevano con altri cittadini acquesi di fede diversa è stata quindi integrata dalla nuova documentazione anche questa è a disposizione ovviamente di tutti ora tutti i testimoni che ringrazio pubblicamente perché sono stati veramente dei patriarchi capaci di trasmettere con la loro efficacia comunicativa e anche con la loro memoria sofferta questo portato terribile di storia che doveva essere fatto conoscere e dicevo tutti i testimoni hanno poi concordato su tre punti centrali del momento della persecuzione e della deportazione in questo senso quindi comparando le varie testimonianze proprio tutto questo portato testimoniale è autentica storia il primo dei dati che si ritrova anche negli attivi e che ad acqui al momento dell'arrivo dei tedeschi il 9 settembre del 43 non c'erano soltanto gli ebrei che sono stati deportati c'erano almeno una cinquantina di ebrei acquesi e altri provenienti dall'estero o anche da città che magari di origini acquesi avevano pensato di trovare in questa zona più defilata rispetto al centro industriale o alle vie di comunicazione maggiore sicurezza e quindi probabile salvezza ora il secondo punto che tutti i testimoni concordano nel far ricordare è che tutti questi cittadini di fede mosaica che sono stati salvati sono stati salvati con non l'azione di un singolo non sono mai stati singoli per salvarli sono state una fortissima catena di solidarietà messa in atto da molti cittadini che possiamo ricondurre sinteticamente a due cordate magari anche mise tra di loro una di gente del popolo di gente comune prevalentemente di contadini che come disse Monsignor Galiano da testimone erano sinceramente addolorati per quanto succedeva e già avevano avuto difficoltà nel compenio precedente ad accettare proprio le persecuzioni le ostilità le forme varie messe in atto per escludere la componente braica da una vita socialmente significativa ebbene tutti questi testimoni hanno concordato nel sostenere che questa prima cordata è poi stata in qualche modo integrata con una cordata gestita da religiosi in un certo senso coordinati dal regista che era segretario del mestolo ed era anche stato invitato di trattare diplomaticamente sia con i partigiani sia con i tedeschi per salvare il maggior numero di vite possibile e fare scambi di prigionieri ebbene questa seconda cordata determinò l'accoglienza in istituti religiosi non soltanto di questa zona penso ad esempio alle due signore Ina madre e filia che furono riparate dal suore del saluzzo che loro stessi conoscevano da tempo ma penso alle suore di Ovada alle suore di Molare che ricoveravano le donne come dice Monsignor Abrelliano più in un certo senso più relativamente facili da proteggere ma altri istituti religiosi che nascosero invece negli uomini con enorme abnegazioni direi anche con azioni che sfiorano la generarietà tanto coraggiosi appunto le grano ecco questa gigantesca catena di solidarietà che nasceva forse da un maternage collettivo cioè compassione per quello che stava succedendo ma che nacque anche sicuramente come consapevolezza di una ribellione di una necessità di ribellione a quanto starò succedendo quindi come resistenza civile andò in un certo senso parallela ma con obiettivi opposti in direzione opposta rispetto ad un'altra portata quella dei tedeschi occupanti quella dei fascisti fascinorosi quella dei delatori che lavorò invece per denunciare per deportare e far uccidere questi ultimi delatori per scuotere in Italia ecco sono ovviamente queste le componenti essenziali di una ricostruzione storica che non solo sia efficace per chi ascolta specialmente i nostri giovani ma per una ricostruzione storica che abbia i caratteri della storia cioè intanto la documentazione poi la veridicità e la comparazione contestualizzata a tutti gli altri documenti inferenti che possono permettere davvero la conoscenza della storia e volendo ricordare come facciamo tutti gli anni di solito al Bosco dei Giusti le azioni perché sono state le azioni e non le persone da ricordare sono queste state determinanti per fare la differenza tra la vita e la morte l'azione del proteggere l'azione del nascondere l'azione dello sfamare i momenti in cui persino il latempolgare dei neonati era razionato e non si trovava cibo l'azione infine del salvare sono queste appunto le azioni che di solito noi leggiamo sulla lapide del Bosco dei Giusti volendo ricordare sommariamente qualche azione vorrei ricordare che queste sono state sono tutte intanto di pari merito in un certo senso e tutte da ricordare fossero fulmine legate a un attimo fossero azioni prolungate nel tempo di chi ricoverò nella propria cascina o nell'istituto religioso i perseguitati penso ad esempio all'azione fulmine del vicino di casa di Caterina Mozzone che nella tarda primavera del 44 se tendo a bussare con il calcio del fucile alla porta furiosamente per un po' di tempo infine si affaccia alla finestra e grida ai militi fascisti non è inutile che bussiate dovete cercare in qualche altro momento perché se ne sono andati tutti da qualche giorno quelli stettero a comunicazione se ne andarono non tornarono per fortuna ma dietro quella porta e tutto il caseggiato di Piaccia San Guido lo sapeva dietro a quella porta c'era l'intera famiglia Mozzone Galliano e c'era Rosina De Benedetti nascosta per tanti mesi da questa famiglia questa fu un'azione fulmine ce ne furono altre ma ci furono anche azioni invece prolungate nel tempo ad esempio tutta una rete messa in atto da famiglie contadine nei vintorni della città in zona Cassaroni in zona Vistania in zona Valle Bagnani a Stredi poi più lontano ancora Graniardo Morbello cioè azioni queste che portarono al nascondimento alla protezione e quindi alla salvezza di ebrei perseguitati ricordo brevemente ad esempio quella della famiglia della Bazzana di Mizza che addirittura ricavò l'intercapedine nel penile di casa e vi nascose le sorelle De Benedetti per tutto il tempo che bastò fino alla liberazione e le salvò raccomandando loro di essere come dire invisibili di non farsi sentire di non far rumore di non far uscire però le salvò ecco così come vorrei ricordare invece l'azione anche questa fatta a catena o a staffetta fra più persone che portò ad esempio alla salvezza di un uomo pubblico come fu Arturo Ottolenghi e lo ricordo perché questa è una storia che mi è stata raccontata anzi fatta leggere dalle memorie di un bisnipote che ha scritto le memorie di casa per i propri figli e per i suoi sei nipotini lui ormai ha 80 anni e quindi ha bisogno di lasciare questa testimonianza della famiglia Ottolenghi disse e scrisse che non fu una famiglia deportata ma fu una famiglia perseguitata e umiliata dalle disposizioni fasciste che mentre Arturo Ottolenghi si era già autopremunito sia cercando attraverso l'archivio segreto del Vaticano di amere come ebbe il battesimo della propria certificato di battesimo della propria madre che sarebbe stata battezzata durante un viaggio a pellegrinaggio a Roma e sia anche facendosi battezzare il 29 settembre del 39 dal vescovo acquese del ponte perché una disposizione del famigerato decreto legge 1728 che lasciava diciamo un gioco discriminatorio nella discriminazione permetteva di considerare discriminati e quindi non deportabili i cittadini che si fossero convertiti entro l'ottobre di quell'anno alla religione cattolica tuttavia Arturo fu anche aiutato ecco di nuovo nel comparire alla staffetta fu anche aiutato dal podestale Acqui il quale non ricevendo come per tutti gli altri dati famiglia l'attestato di appartenenza alla cosiddetta razza ebraica lo mandò a cercare quando fu sicuro che non era a Monterosso e così fece in una sorta di gioco a protrarre al massimo la possibilità di salvarlo fece per qualche volta finché un impiegato comunale non reclamò e scrisse sappiamo tutti che è ebreo e dunque io non voglio per non avere scritto accanto al certificato di nascita appunto questa appartenenza raziale non voglio un domani essere demonizzato di fatto il podestà scriveva alla questura che lo sollecitava in merito scriveva cercatelo fatelo cercare presso il podestà di Bolliasco di Piedeliguro di Bardonecchia perché Arturo Torrenghi sta in queste località a gran parte dell'anno e in questo modo lo salvò senonché un giorno che era da qui fu poi oggetto di delazione catturato fu imprigionato e in questo caso ecco un'altra staffetta intervenne un signor Galiano a trasferirlo a farlo trasferire nell'infomeria dell'ospedale militare sarebbe poi stata la famiglia Wedekind tedesca cattolica industriale filonazista a intervenire per la sua liberazione una sorella di Arturo una sposata a Torre a Genova sfuggì alla rettata genovese dei primi di dicembre del 43 e riparò in un istituto di suore insieme a marito e a figlioletto minore i due maggiori erano già fugiti in Sudafrica riparò invece in quel dialassio in un istituto religioso ebbene ecco quando dicevo che le azioni sono tutte comprimarie per la salvezza e siano esse ad un attimo siano esse prolungate nel tempo a fine 44 una incursione di fascisti pretende di visitare l'istituto naturalmente primo panico la superiore delega una suora a travestire appunto con abito monacale la signora torre e lei dando l'incarico a due consorelle di accompagnare i militi come dovevano a fare la giusta perquisizione dell'istituto nasconde sotto la gonna la propria gonna il bambino e lo salta chiudo ricordando quello che ebbe diverse volte a dire anche in sede privata garocano Francesco Cugnaio e potessare di gremiardo che tenne a nudino nascosti due suoi amici di Genova sfuggiti anch'essi alla rettata e li tenne finché appunto li salvò quando nominato giusto tra le nazioni si schermì e non volle assolutamente partecipare a tutti i festeggiamenti che gli venivano fatti e disse a tutti ricordatevi che io ho fatto quello che si doveva fare non avrei mai potuto lasciare morire persone innocenti che mai avevano fatto niente ed erano state bravi cittadini e dunque ricordatevi anche di conoscere questa storia che è giusto ma di non fare troppo schermazza Mentre abbiamo collegamento con il signor Orsi di Genova la professoressa Panaro ci legge un'ultima testimonianza e poi passiamo alla parte religiosa Una breve testimonianza da testimonianza dei diretti di donne e bambini nei lagarmazisti di un sopravvissuto è rimasto però anonimo tutto era silenzioso come in un acquario e come in certe scene di sogni ci saremmo attesi qualcosa di più apocalittico sembravano i soldati SS semplici agenti d'ordine era sconcertante e disarmante qualcuno osò chiedere dei bagagli risposero bagagli dopo qualche altro non voleva lasciare la moglie dissero dopo di nuovo insieme molte madri non volevano separarsi dai figli dissero bene bene stare con figlio sempre con la pacata sicurezza di chi non fa che il suo ufficio di ogni giorno ma Renzo induggia un istante di troppo a salutare Francesca che era la sua fidanzata e allora con un solo colpo in pieno viso lo stesero a terra era il loro ufficio di ogni giorno in meno di dieci minuti tutti noi uomini validi fumo radunati in un gruppo quello che accade degli altri delle donne dei bambini dei vecchi noi non lo potremmo stabilire né allora né dopo la notte l'inghiottì puramente e semplicemente oggi però sappiamo che in quella scelta rapida e sommaria di ognuno di noi era stato giudicato se potesse o no lavorare utilmente per il Reich sappiamo che nei campi rispettivamente di Monogis Buhle e Birkenau non entrarono nel nostro convoglio che 96 uomini e 29 donne e che di tutti gli altri il numero di più di 500 non uno era vivo due giorni più tardi sappiamo anche che non sempre questo porteno e principio di discriminazione inabili e inabili fu seguito e che successivamente fu adottato spesso il sistema più semplice di aprire entrambi nel quartiere dei vagoni senza avvertimenti né istruzioni ai nuovi arrivati entravano in campo quelli che il caso faceva scendere da un lato del convoglio andavano in gas gli altri così morì Emilia che aveva tre anni poiché ai tedeschi appariva palese la necessità storica di mettere a morte i bambini degli ebrei Emilia figlia dell'ingegnere Aldo Levi di Milano che era una bambina curiosa ambiziosa allegra intelligente alla quale durante il viaggio nel vagone gremito il padre e la madre erano riusciti a fare il bagno in un mastello di zinco in acqua tiepida che il degenere macchinista tedesco aveva consentito a spillare dalla locomotiva che ci trascinava tutti alla morte scomparvero così in un istante a tradimento le nostre donne i nostri genitori i nostri figli quasi nessuno abbia modo di salutarli li vediamo un po' di tempo come una massa oscura dall'altra estremità della bambina poi non vediamo più nulla Diamo adesso la parola al signor Francesco Orsi della comunità ebraica di Genova anche come gli scorsi anni è con noi per un saluto e una preghiera a lei sono Anzesco Allora buongiorno a tutti saluto a tutti i presenti mi dispiace di non poter essere qui con voi naturalmente saluto le autorità civili le religiose se ci sono anche militari in particolare la professoressa Rappetti il professor Borgazza Vittorio Paolo che hanno permesso anche questo collegamento e prima di intonare la preghiera dei deportati e dei morti per la Shoah voglio dire qualcosa qualche parola ieri durante l'assunzione del sabato alla sinagoga abbiamo letto la Parashat di Pesha Allah che descrive l'uscita dall'Egitto in seguimento degli egiziani il passaggio del Mar Rosso la campi del mare la mamma nello scontro con l'acerimo nemico dei figli di Israele chiamato Amalek il popolo degli Amalekisti la scorsa settimana abbiamo avuto due occasioni e due giorni speciali uno è il giorno della memoria e il giorno dopo abbiamo celebrato la festa del capodanno degli alberi tutti i Shabbat il quindicesimo giorno del mese lunare di Shabbat come ho detto il nemico il popolo di Amalek è il nemico per eccellenza di Amalekist rappresentava il male assoluto in quanto desiderava nientare di Israele nella storia del popolo ebraico tutti i nemici che hanno desiderato sterminare ebrele sono le incarnazioni di Amalek ultimo esempio ne è il nazismo che ha portato via la vita a 6 milioni di ebrei e non soltanto a 6 milioni di ebrei ma anche a zingari alienati mentali persone con gravi problemi e naturalmente anche omosessuali e testimoni di Jehova oltre alla morte fisica durante la Shoah il popolo ha vissuto su se stesso la morte dell'identità il verile considerati come cittadini di serie B i nazisti definivano gli ebrei un'intermeshe sottospecie di uomini però in questi passi che raccontano la guerra tra i ebrei e Amalek c'è la spiola di Mosè Mosè sale su una collina alza le sue braccia e gugiano il suo bastone aiutato anche da Aronne e da Pur quando Mosè alza le braccia Israele vince quando le abbassa perde la battaglia ma l'epilogo per Israele è la vittoria al capitolo 17 dell'Edo versetto 14 è scritto prima lo leggero in ebraico poi in italiano vaione rascene voshè k'tov l'zot zikaron vasseter bessim gerosnei e osshua chi maho ebche exeher Amalek mikasa pashamaim l'eterno dice a Mosè scrivi questo come memoriale nel libro della Torah e in primo nelle vestie di Giosuè perché io cancellerò del tutto la memoria di Amalek da sotto la memoria di Amalek il nazismo non è salito è addormentato il male assoluto per il momento è visto ma a quale prezzo il giorno successivo abbiamo festeggiato il capodanno degli alberi in questo periodo le prime gemme spuntano sugli alberi in Israele anche grazie alla romanima che non è il nostro e neanche il mio nella capica del mare che viene intonata da mia sorella di Mosè e dalle donne un verso dice ed è ilodo 15 17 18 prima del leggere in braico poi italiano allora tu porterai Israele e insiederai sul monte della tua resistà della tua redenità tu ripianterai nella terra nella vendenza che tu sei riservato che tu ascenda al sasso nel santuario mio signore che le tue nascite hanno preparato il signore regnerà in eterno la promessa del signore si è avverata e il popolo viene condotto e piantato nella terra scelta dal signore così come viene piantato un albero una piazza israele è una realtà che ha cambiato la storia del meglio niente facendo fiorire il deserto difendendosi e ora anche stipulando tra stati di pace con vari paesi di avanti la notte sembra finita le persecuzioni la paura che non sia per arrivare l'alba l'antisentismo il razzismo l'intoleranza mascherata mascherata a volte da giustificazioni politiche è ancora presente il male assoluto è ancora presente in centri ideologie e quindi non bisogna mai abbassare la guardia auspichiamo che un giorno le parole dell'esodo diventino realtà il signore possa cancellare del tutto la memoria di Amalek da sotto al cielo ora intonerò il canto dei deportati la preghiera della Shoah Elmalera Hamim Dio pieno di misericordia Elmalera Hamim Shokheel Bameromim Dayana Almanot Ravid Yetonim Anteme Nukhane Chonah Alkanse Ashekinah De Maalot Kiddushim Teorim Kezohar Chalakiyah Malkiyim Le Mishmot Rivezot Alfei Yisrael Anashim Nashim Vatats Shenevu Veshenit Veshenit Shatou Shenevneku Veshenit Rekhu Veshenit Beru Chaim Alkidusha Shem Kiddusha 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 Mokhane Kiddusha Kiddusha Dio, pieno di misericordia, che abiti nell'Occenso, giudice delle vedove e padre degli ordani, procura un giusto riposo al riparo della provvidenza, insieme ai santi e ai puri, splendenti dello splendore del firmamento, alle anime delle miriadi, delle migliaia di ebrei, uomini, donne e bambini, che furono uccisi, scannati, trozzati, bruciati e sepolti vidi per la santificazione del nome divino. Tutti i santi e puri, e fra gli essi di straordinaria veratura giusti, cebri dell'Ivano e grandi della Torà, il padre della misericordia li ricorda i suoi sociali in Eterno. Affili al mondo della Pisma la loro anima, nel giardino dell'Eden sia il loro riposo, l'Eterno è la loro dignità, ti ricordi il loro sacrificio, e valla per noi e per tutto l'Ivano e la loro città. Terra, non coprire i loro sangue, e non dirgli al luogo, al loro digno. Loro e l'Eterno dormino dispersi di traele al loro cospetto, ed i martiri per sempre rimangono nella memoria al cospetto di Dio. Ricordino in pace, e giacciano nei loro giociti, e dalla fine dei vecchi ricordano la vita, e diciamo amè, grazie. Mi unisco anch'io alla preghiera che appena è stata recitata, noi tutti vogliamo pregare in una situazione come questa, perché vogliamo ricordare la preghiera, e anche ricordo, e anche cercare di capire che cosa è successo, perché è successo, perché una follia come quella che poco più di 80 anni, 70 anni fa, è avvenuta in mezzo a noi, sia stata possibile. Dobbiamo pregare per capire perché sia stato possibile prendere una persona di 88 anni e trasportarla ad Afri per ucciderla. Che senso poteva avere questa cosa? E però in questa follia appunto c'è stata la grandezza dei giusti, che hanno saputo reagire, che hanno saputo accogliere, che hanno saputo capire il male e contrastarlo, c'è stata anche invece l'accoglienza del male, c'è stata la capacità di condividere questo male da parte di molti, che o per l'indifferenza o per la vera collaborazione, la scelta di aderire alla Repubblica Sociale di Salò, la scelta di mettersi da quella parte ideologica. E noi quindi dobbiamo oggi domandarci come fare a evitare che altre cose simili possano succedere nel mondo, come fare a contrastare costantemente o in forma di razzismo, di ingiustizia, di incapacità di comprendere la realtà umana nella sua pienezza. Ecco, vorremmo chiedere questo oggi anche al Signore nella preghiera, cioè domandarci come sia possibile riuscire ad avere una coscienza capace di vedere il male e di combatterlo. Bene, direi che ci possiamo prendere qualche secondo di silenzio per dare seguito a quello che ci ha appena detto il nostro vescovo e poi un piccolo attivismo. Bene, ringraziamo tutti quelli che hanno collaborato con le iniziative, le associazioni, le persone che hanno partecipato a questo momento e ricordo che nelle prossime settimane si saranno altri appuntamenti, questa volta online, per i cittadini e per gli studenti della nostra città e della nostra regione. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a tutti Grazie a tutti